50.000 pasti per i gatti delle colonie feline, una nuova distribuzione, la sesta, da parte del Comune di Arezzo in collaborazione con il canile municipale gestito da Enpa. Noi abbiamo 210 colonie feline, ringraziamo i custodi delle colonie perché veramente hanno un grosso supporto. Tengo a precisare che l'amministrazione comunale è molto attenta e sensibile ai bisogni di questi nostri amici animali, tanto che il nucleo operativo della nostra Polizia Municipale è stato elevato da 2 a 6. Nei prossimi giorni le custodi potranno ritirare al canile il cibo in quantità proporzionale ai gatti genziti. È un gesto importante questo, molto, perché è di unione e di sostegno alle gattare, anzi alle referenti di colonia che veramente si adoperano come noi volontari ci adoperiamo qui per il canile, loro si adoperano anche loro sul territorio, quindi avere anche un piccolo sostegno fa tanto. Fondamentale resta poi l'impegno sul fronte sterilizzazioni. Le sterilizzazioni finalmente cominciano a funzionare, deve essere ancora limato un percorso piacevole con l'ASL, però stiamo riuscendo con l'impegno dell'ufficio ambiente a snellire un po' quella che è la burocrazia, perché siamo passati da una anarchia di prima forse a un po' troppo burocrazia che con il gatto randagio non è possibile rispettare. Il gatto è randagio per natura, quindi è difficile che lui poverino possa essere puntuale alle 8 la mattina, anche se noi siamo disponibili ad accoglierlo il giorno prima.